I laboratori Z1 Concept continuano nella loro ricerca di bellezza per catturare l'essenza delle migliori rarità della natura e trasformarle negli estratti al cuore delle formule milkshake. Integrity Reconstruction System è l'innovativo servizio di ricostruzione che reintegra i capelli dei componenti essenziali per restituire loro la massima bellezza. Il sistema si sviluppa in due fasi. La prima ricostruisce la rete capillare, la seconda sigilla. Milkshake Integrity Leave-In completa il servizio apportando morbidezza e brillantezza. Dopo aver eseguito un'analisi del capello identificare la tipologia di servizio da eseguire. In caso di capelli molto danneggiati procedere con il servizio di ricostruzione intensiva. Prima di iniziare il servizio spazzolare delicatamente i capelli. Lavare preventivamente i capelli con Milkshake Deep Cleansing Shampoo per detergere in profondità ed eliminare le impurità. Per facilitare l'applicazione dei prodotti dividere la capigliatura in sette sezioni, quattro nella zona posteriore e tre nella zona anteriore. Con Milkshake Micro Nebulizer erogare 20 ml di Milkshake Integrity Rebuilder Fase A, trattamento ricostruttore intensivo per capelli danneggiati. La sua formula a base di cheratina, proteine ed amminoacidi di derivazione naturale penetra nella fibra capillare restituendone i naturali componenti. Questa è la fase più importante, dove si ricostruiscono le fondamenta per ritrovare capelli sani e perfetti. In questo processo si costruisce una rete che rappresenta la struttura del capello intervenendo nelle parti danneggiate. Applicare Milkshake Rebuilder Fase A prima sulle zone maggiormente danneggiate, poi distribuire uniformemente su tutta la lunghezza. Massaggiare per favorire l'assorbimento del prodotto. Districare i capelli con le dita. Terminata l'applicazione in tutte le sezioni, pettinare delicatamente i capelli con un pettine a denti larghi. Asciugare il 50-70% dei capelli con il phon. Applicare Milkshake Integrity Leave-In, trattamento spray per capelli danneggiati, per facilitare la distribuzione della fase successiva. Dopo aver suddiviso nuovamente la capigliatura in sette sezioni, applicare Milkshake Integrity Fiber Sealant Fase B, trattamento sigillante nutriente per capelli danneggiati. Grazie alla sua speciale formulazione, sigilla e compatta la cuticola, filmando e lasciando i capelli rigenerati e lucidi. Distribuire il prodotto omogeneamente su lunghezze e punte. Fettinare con le dita per evitare che il prodotto venga asportato e sigillare la cuticola passando ogni sezione tra il dito indice e quello medio. Ripetere l'applicazione su tutte le sezioni. Lasciare in posa 10 minuti sotto fonte di calore. Terminato il tempo di posa, risciacquare abbondantemente con acqua. Le fasi A e B hanno reintegrato i capelli dei loro naturali componenti, creando una nuova struttura duratura. Per conferire maggiore flessibilità e morbidezza, applicare il condizionatore della linea Milkshake Integrity più adatto in funzione della tipologia di capello. Risciacquare abbondantemente e procedere con lo styling desiderato. Milkshake Integrity Reconstruction System è un servizio innovativo che dà risultati visibili sin dalla prima applicazione donando nuova vita anche ai capelli più danneggiati.